musica fine prima tempo tra Borussia Dortmund e Red Devils, partita che vende in vantaggio 5-1 state giocando bene e state sfruttando anche la superiorità numerica eh, dobbiamo rispettare la partita scorsa un componente in più che sta giocando benissimo e finiamo, meritiamo in vantaggio possiamo fare di più nel secondo te cosa c'è da migliorare? non penso niente, 5-1 va benissimo, in bocca al lupo fine prima tempo che vede in vantaggio di 5-1 peccato per l'espulsione di Napoli, un ingenito a suo all'inizio sul 2-1 abbiamo tentato di recuperare però stavamo recuperando e poi l'espulsione di Cristian Napoli ci ha mandato giù di morale ci ha spezzato un po' le gambe diciamo eh sì, ci ha spezzato un po' le gambe da migliorare? già eravamo in affanno e diciamo che con l'espulsione ci hanno peggiorato le cose secondo te cosa c'è da migliorare in questo secondo tempo? eh in questo secondo tempo spero che rientri Napoli e niente, dobbiamo fare più gioco di squadra e vediamo se riusciamo bene va benissimo, calo volse trepi appena terminato l'incontro tra Borussia Dortmund e Red Devils partire terminata 11-2 per il Borussia siamo qui con il migliore in campo Postiglione Postiglione per te oggi 5 gol ottima prestazione della squadra anche se da dire che per stare non ho nomi miei sì, oggi la squadra è stata molto compatta ha giocato molto bene siamo stati anche aiutati dall'espulsione però oggi la squadra c'era e abbiamo riuscito a portare i tre punti a casa sì, con questi altri tre punti la salita in classifica dove sperate di arrivare a Finberlo? speriamo il più in alto possibile e di vincere a Qualcogno diciamo partita per partita sì, di vincere a Manolo va bene, portere la medaglia del migliore in campo a mia sorella va bene, in bocca al lupo ciao ragazzi